C'è un elemento straordinario che pochi conoscono, che si trova nel giardino di Palazzo Fogaccia. Molti avevano sentito parlare della storia della colonna infame di Alessandro Mangioni, anche Cusone ha la sua colonna infame, questa colonna si trovava in Piazza Baradello, era veramente una colonna infame che aveva sullo zoccolo la sentenza, era la sentenza che aveva riguardato la famiglia Negroni, la famiglia Cusonesi che aveva parlato in Baradello e questa famiglia era responsabile di un delitto, aveva addirittura fatto occupare la città da una squadra di bravi e aveva estorto soldi al comune, mentre lei stessa era debitrice nei confronti del comune, della comunità. Dopo il fattaccio i responsabili della famiglia vennero arrestati insieme ad alcuni loro servitori e questo tremendo delitto richiedeva una punizione terribile. Vennero condannati a morte alcuni membri della famiglia e anche alcuni servitori, ma nella sentenza c'è scritto che la loro casa, il loro palazzo in Baradello deve essere raso al suolo e così fu e si formò la piazzetta di Baradello e in questa piazzetta venne collocata una colonna, una colonna infame per ricordare la sentenza che aveva riguardato questa famiglia. Questa colonna che rimase in piazza probabilmente per tutto il Settecento, poi finì con una croce sopra vicino alla località Fiume per segnare il posto del lazaretto durante la pestilenza. rimase lì mezza rovinata. Il Baradello, Filippo Fogaccia, la recuperò e la portò qui dove è stata collocata in maniera degna, qui nel giardino di Palazzo Fogaccia. Se voi notate, alla bacia ci sono due stemmi, sono due stemmi di famiglie nobili veneziane, quella a destra con i tre delfini e lo stemma di Dolfin, Crusone ebbe come vicario veneto un dolfin, ma anche lo stemma del vescovo Dolfin, l'ultimo vescovo di Bergamo, prima della restaurazione. Questo stemma non faceva parte della colonna, è stato recuperato in una casa di Crusone, dove aveva dormito il vescovo Dolfin, il vescovo bergamasco. Insieme a questi due stemmi, l'altro stemma è della famiglia Donati, Donà, veneziana, adonano quindi questo colonna, che è veramente un pezzo storico, importante della nostra storia. Grazie a tutti.